Andiamo a vedere Nadia, montalcinofficialstore.com Andiamo a vedere Eccolo, eccolo che carica Allora andiamo a vedere Nadia Togliamo solamente il commento in evidenza di Nadia Così ci concentriamo sui contenuti Allora la prima cosa che noto è un po' lento a caricare Perché noi qua abbiamo una connessione fibra ottica suprema E il sito è lento, guarda sta ancora caricando in alto Quindi prima cosa da migliorare subito La velocità di caricamento del sito Allora Regalati e regala i migliori vini di Montalcino Bello, bel posizionamento Sì, ben posizionato Partiamo dalla fase 1 di Nadia Allora Andiamo ad analizzare la fase 1 Che è la digitalizzazione dell'offerta Mi pare che parta molto bene Esatto Vivi un giorno a stetto contatto con il produttore Questo è già un altro prodotto questo Sì Questo è un grano Campo di grano Che non so cosa c'entra la pasta Questa è una pasta Forse perché Diciamo le degustazioni Brunello, questo è chiaro Zafferano, l'oro rosso di Montalcino Sono tutti prodotti di Montalcino Sì, sì, sì No? Ok Ok Quindi Ecco, io ho un problema Cosa vedi? Esatto Con i vini di Montalcino Oppure vi vendi i vini di Montalcino Chi è il tuo avatar? Chi è il tuo cliente ideale? A chi vuoi vendere? Perché se non sai a chi vuoi vendere Non lo puoi targetizzare sul web A quel punto Se dovessimo essere nella fase 1 Andremo a semplificare questa home page E questa carrellata di prodotti È molto efficace sicuramente Ma la ridurremo sicuramente con la solita domanda Cosa ti fa fare più soldi adesso? Cosa è più cercato adesso? Esatto Per cosa vuoi essere riconosciuto? Sicuramente adesso I wine and food tour Molto difficile Perché c'è Col covid Ci sono mille problemi Mille problemi Sicuramente gli americani Anche potrebbero Cercare questa cosa Quindi Si potrebbe anche valutare In futuro Di tradurre il sito in inglese Però Vedi Una cosa mi viene in mente al volo Il chi siamo in fondo al sito Ma nessuno ci finisce lì Esatto Non c'è il chi siamo qua Io non riesco a capire cosa vendete Andiamo nel chi siamo Per capire giusto se c'è un posizionamento In qualche modo definito Comunque questo sito è molto lento a caricare Guarda un po' È molto lento Dal produttore al consumatore Vedi Parla di Nadia Proprietaria di Artemisia Viaggi Ma non c'è Nadia Nadia si impegna in artigianese A selezionare per te i migliori prodotti di Montalcino Foto di Nadia Esatto Quindi Se fossimo nella fase 1 Prenderemo questa pagina E la faremo diventare Una delle prime cose Che il visitatore vede Abbiamo una struttura Basata in 7 step Che sarà appunto applicata Alla fase 1 In cui la pagina Chi siamo È realmente la pagina La pagina che ti trasforma i visitatori Soprattutto come C'era Cinzia prima Adesso c'è Nadia Ma dov'è Nadia? Se c'è la presenza umana Ho dei segreti Per fidelizzare le persone Anche perché immaginatevi un utente Che purtroppo non può avere il contatto umano Se non ti vede neanche nel sito Non si fidelizzerà mai Invece Dobbiamo ricreare quell'esperienza Che c'è appunto nel mondo reale Sul web Cosa non facile Ma sicuramente Ci può fare Io comunque Se devo andare rapidamente A sommarizzare Insomma quello che abbiamo detto prima Direi che Primo il sito è lento a caricare Può migliorare un po' Da questo punto di vista Il punto è che appena entro Non è chiaro cosa vendi Capito? E manca secondo me Uno spazio di testo qui sotto Che mi va a posizionare quello che fa Poi c'è la grande scelta Cioè noi vogliamo vendere prodotti O vogliamo creare l'experience Perché le esperienze Due business diversi Esatto Sono due business diversi Bisogna mettere uno dei due in evidenza Perché appena entro Io penso che sei più orientata Alle esperienze Perché leggendo anche la tua storia Che ripeto è introbabile Perché siamo andati noi a cercarla Vedi qua dice Una shop online Che intende promuovere i prodotti tipici E la tradizione Inogastronomica di Montalcino Sicuramente il nome è perfetto È perfetto Sì Hai bloccato il dominio in tempo Sì E qua da rifare tutta la pagina Che siamo è messa anche più in evidenza E poi c'è la grande scelta Cioè cosa vogliamo mettere in primo piano In tutti i casi Se uno ha un doppio business Perché questo è un doppio business A tutti gli effetti Perché noi abbiamo un doppio business Certo Tu devi creare i due mondi Capito Devi creare Magari puoi fare sul sito Che appena entri C'è Visita lo store Scopri le esperienze Allora lì mi porti Dove voglio andare E Mi fa un posizionamento chiaro Che dice La missione di questa azienda È far conoscere Montalcino E le sue tradizioni Far vivere le esperienze Esatto A casa tua Comprati i prodotti Vieni dal vivo Scopri i tour Grazie a tutti